Lo sapevo, lo sapevo che ci saremmo rincontrati. Come va? Sì, ho cambiato di nuovo lavoro. Cosa è successo al market asiatico? Beh, ecco, mi hanno peccato mangiare uno snack. Ovviamente l'avrei pagato, solo che forse non dovevo mangiarlo durante l'ora di lavoro. E quindi, niente, mi hanno licenziato. Ma il passato non ha più importanza, adesso lavoro qui. Come faccio a trovare così tanti lavori? Beh, ovviamente ho un curriculum molto ricco. Ho lavorato in tanti posti. E ovviamente non scrivo che ci ho lavorato solo una settimana. Scrivo che ci ho lavorato un po' più di tempo. Sai com'è? No, no, non è mentire. È semplicemente dire una verità più creativa. Comunque, basta parlare di me, dimmi di te. Ah, una festa di Halloween. Bene. Sei nel posto giusto. Sì, ti piace il mio nuovo papillon? Ho anche gli orecchini coordinati. Comunque, dimmi tutto. Ti serve un costume? Come? Ah, no. E cosa ti serve? Una festa a casa tua? Ok. Quindi ti serve qualcosa per decorare la casa? Come purtroppo? Come purtroppo? Come purtroppo? Ti stanno obbligando a fare una festa di Halloween a casa tua? Obbligando? Halloween? Obbligando? Oh, farò finta di non aver sentito. No, come si fa a non amare Halloween e a non voler fare una festa di Halloween? È il periodo più bello dell'anno. Beh, tu dimmi quale altro periodo dell'anno sei libero di terrorizzare la gente per strada? No, no, no. Non parlo di me, ovviamente. Parlo di... dei bambini, insomma. Pensa com'è divertente per loro. Comunque... Sì, ho parecchie cose. Se vuoi ti faccio vedere tutto quello che abbiamo. Ok. Ovviamente qualcosa di particolare oppure ho libera scelta? Ti faccio vedere qualcosa io. Beh, intanto cos'è Halloween senza una zucca? Questa bellissima zucca per metterci dentro dolcetti, caramelle, biscotti. Ah, ok. Sì, capisco che non devi andare in giro con i bambini a raccogliere le caramelle, però la potresti mettere, non so, al centro di un tavolo e metterci le caramelle dentro così gli ospiti. Sì, dovrei avere qualche caramella qui in giro. Potresti metterci questi lecca-lecca? Questi lecca-lecca con la scheletra, i vampiri, i fantasmi. Super cool. Che te ne pare? Sono al sapore di... Coca-Cola? No, me lo sono inventato, non so, in realtà che sapere abbiano, però... Fanno la loro figura. No? Ok, allora... Puoi metterci dei biscotti? Guarda questi. C'è... Il mostro di Frankenstein. C'è... Il fantasma, il gatto nero, il ragno. Poi c'è... Il dolcetto, scherzetto, il cappello da strega, la zucca e la tomba. Questi ti piacciono? Ok. Bene, lo puoi riempire la zucca con tutti quei biscotti. Mettiamo qualcosa di... Qualcosa per decorare. Ah, sì, innanzitutto... Ci vogliono delle luci. Ne ho diverse. La prima è questa. Questo pipistrello. Come quello che ho al collo. E alle orecchie. E alle mie spalle, queste luci viola. Non puoi dire di no. Forse... ok. Vediamo che altre luci... che altre luci... c'è la zucca. Questo è Halloween, 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 Halloween. Ti piace? Ti puoi mettere diverse sparse un po' in giro. Si possono anche appendere, vedi? Bene. Questa ti piace? Ottimo, ottimo. Potresti anche mettere queste... Questi porta candela. Si, si mette la candela dentro e si accende la faccia del fantasma. Cosa ne pensi? Carino. Ok. Allora, vediamo. Questi. Sono luci a forma di zucca. Ok, non devono mancare mai le zucche. Questi costano 3 euro. Ti piacciono? Bene, bene. Dimmi la verità. Sto risvegliando il tè, lo spirito di Halloween. No. Non importa farlo per i tuoi ospiti. Ho un'altra luce che ti posso mostrare. Questa zucca col cappello da strega. La vuoi vedere accesa? Certo. C'è ancora candela dentro? Ecco qua. E poi al buio questi buchi a forma di stelle e di lune vengono proiettati sul muro. Allora, te ne metto da parte quante? Cinque. Bene. Bene. Bene, bene, bene. Ho anche delle candele nere se vuoi. Molto dark, molto magia nera. Condele? Condele? Ne hai? Va bene. Bene, vediamo qualche altra decorazione. Questa ti piacerà? O meglio, a me. Visto che tu non te ne intendi molto di Halloween, lascia di consigliare da me. un altro pipistrello per metterci dentro, non so, biscotti, patatine. Vedi? Che dici? Ti convince? Ti sta dicendo comprami, 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 comprami. Ti piace? Vedi? Ti mangia? No, no, non ho preso nessuna pastiglia perché sono così annaturate. Ti piace? Vedi? Alla fine ti ho persuaso? Bene, di che altro hai bisogno? Occhi. Ti possono interessare? Diventiamo sfusi. 50 centesimi l'uno. Sono simili ai miei dopo 9 ore di lavoro, non sto. Sì, è che sto cercando di risparmiare, quindi chiedo di fare ore extra. Ti interessa qualche occhio? Ok. Bene, bene, che altro? Palloncini. Ho questi fantastici palloncini a forma di capitone nero. Ah, questo sì ti piace? Bene. Allora quanti ne vuoi? Due pacchi? In un pacco ce ne sono cinque. In un pacco ce ne sono cinque. Bene. Bene. Allora, quanti ne vuoi? Tre pacchi? Ah... Questo... Ah no, scusa, questo non è in vendita. È la mascotte del negozio, si chiama Edgar. No, non è in vendita. Sei soddisfatto così? Sicuro? Perché ci sono molte altre cose? Ok, non insisto. No, beh, io devo lavorare ad Halloween, quindi non potrò andare a nessuna festa. Ma magari... Beh, il mio capo ad Halloween va a una festa, quindi visto che ho già tutte le decorazioni qui, potrei anche organizzare qualcosa qui al negozio, tanto chi se ne accorge. No, no, non perderò di nuovo il lavoro, non ti preoccupare. Ah, e ormai ti preoccupi per me? Che gentile! Bene. Allora... Ti faccio il conto. E... Divertiti! Buon Halloween! E... Ammai! E... Ammai! 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 Grazie a tutti